Pamela Roncetti, Apparizioni Terni, 2014 non vi rendete conto della situazione grave che vivete in questi tempi difficili la mia presenza è una grazia ma non lo capite Paratico, Brescia, 2013 non disprezzate i messaggi donati in questo luogo, in questo tempo di grazia perché non ce ne sarà un altro Dio mi sta mandando qui e in molti luoghi sulla terra perché vi ama e vi vuole nella sua luce Michelino Marco Vecchio, Monte Santonofrio Molise, 2021 vi prego figlioli non suppate questi tempi di grazia tempi di tanto dolore ma tanta grazia Giglio Tra le Spine, Apparizioni Roma, approvate anche da Padre Amort, 2014 perché rifiutate questo tempo straordinario di grazie a voi chiedo di collaborare con me alla salvezza del mondo alla salvezza delle anime che già ho pagato con il mio sangue Sono tempi oscuri ma allo stesso tempo sono anche tempi di grazia e noi abbiamo tutti quanti il dovere di diffondere queste grazie che ci sta dando la Madonna Avremo sempre più problemi come ho detto prima a trovare acqua e cibo le falde acquifere saranno sempre più intossicate però vediamo la soluzione guardiamo questo video Un'altra che è nata che vedeva solo in un occhio perché mi hanno detto così mi hanno detto che il liquido ammiato doveva smeltire i primi sei mesi invece è nata che non l'ha smaltito vedeva da un occhio solo è stata qui la nonna ha portato a casa l'acqua l'ha bagnata con l'acqua e il giorno dopo sono a Titorino per operare la bambina la bambina vedeva poi il Parkinson il Parkinson sono già 7-8 persone che guariscono del Parkinson sono venute i 7-8 non sono venute i 50 persone i 7-8 che sono venute sono guarite del Parkinson Io cosa devo dire? Qui siamo in un posto miracoloso dove la gente guarisce tutti miracoli su miracoli ultimamente due giorni fa un signore che era paralizzato per metà gli ho bagnato la testa gli ho massaggiato è andato a casa che camminavo quest'acqua può guarire chiunque al mondo l'acqua si moltiplica poi voglio dirvi questo sono 25 cari su 25 che vengono fuori dal coma io non faccio niente dico solo alla gente di portare quest'acqua di tenersela in casa che quando uno è in coma basta spruzzare l'acqua in viso che torna al mondo un'altra volta ci sono gente che è già 7-8 anni che sono qui ancora che erano in coma sono 25 cari su 25 questo signore si chiama Ivo Pignatti è la persona più semplice di questo mondo e la Madonna in un sogno aveva indicato un punto preciso di un terreno e aveva detto di scavare un pozzo con l'acqua di questo pozzo sono guarite migliaia e migliaia di persone da malattie anche della pelle da tumori della pelle dall'herpes dal fuoco di Sant'Antonio e come vi ho detto negli incontri in passato che ho registrato arriveranno delle forti pestilenze adesso abbiamo visto anche il vaiolo delle scimmie quindi andate a procurare quest'acqua miracolosa a Garlasco in provincia di Pavia andateci con quest'acqua sono guarite delle persone anche da malattie sconosciute per esempio c'era una signora che aveva la faccia deformata aveva un tumore sembrava un mostro aveva la forma di un rospo nel vero senso della parola questa signora ha girato per sette anni ospedali in varie parti del mondo per cercare una cura ma i dottori le hanno detto che non c'era niente da fare questa signora poi è andata a Garlasco si è bagnata la faccia per venti giorni ha bevuto quest'acqua ed è guarita inspiegabilmente completamente guarita varie donne varie signore che si erano sposate da vent'anni o anche di più non riuscivano a rimanere incinta hanno bevuto l'acqua di Garlasco e sono rimaste subito incinta una persona tre anni fa all'incirca aveva fatto un incidente in macchina aveva perso la memoria aveva sbattuto la testa non riconosceva più neanche sua mamma è andato a Garlasco ha bevuto quest'acqua e ha recuperato immediatamente la memoria ha riconosciuto anche subito sua mamma e si sono commossi tutti le guarigioni che ci sono state grazie a quest'acqua bisogna considerare anche che sono simili a guarigioni che sono avvenute grazie all'acqua di altre apparizioni mariane in altre parti del mondo mi spiego a Garlasco un signore era rimasto paralizzato alle gambe non poteva camminare ha bevuto l'acqua di Garlasco si è rialzato subito in piedi ha ricominciato a camminare c'è stato un caso simile a Lourdes un bambino di 18 mesi nel 1858 di nome Luis Giustin è stato attaccato dalla tubercolosi le gambe erano completamente paralizzate non poteva camminare e i dottori hanno detto che aveva qualche ora qualche giorno di vita allora lo hanno portato a Lourdes l'hanno immerso nella vasca d'acqua è uscito da questa vasca e il bambino ha ricominciato a camminare è guarito completamente i dottori sono rimasti sbalorditi non hanno dato spiegazioni torniamo a Garlasco una bambina non vedeva l'occhio sinistro e doveva essere operata è andata a Garlasco si è bagnata l'occhio con quest'acqua e la bambina è guarita ha ricominciato a vedere e non l'hanno operata a Turzovka in Slovacchia c'è un'altra apparizione la Madonna era apparsa negli anni 60 c'è una fonte d'acqua e un giorno un medico di Praga è andato in questo luogo con la sua figlia una bambina di 5 anni cieca sin dalla nascita fisicamente parlando proprio questo medico ha bagnato gli occhi di sua figlia di questa bambina con l'acqua di Turzovka e la bambina ha ricominciato subito a vedere subito davanti a tutti e anche qui le persone si sono commosse poi c'è anche da considerare che grazie all'acqua di Turzovka altri bambini ciechi che non vedevano o sono guariti hanno ricominciato a vedere torniamo ancora a Garlasco decine e decine di persone che erano rimaste in coma non riuscivano più a risvegliarsi e cosa hanno fatto? gli hanno spruzzato direttamente in faccia quest'acqua e queste persone si sono risvegliate subito ed erano in coma è capitato un caso simile nel 2018 mi spiego un signore di Salerno era gravemente malato soltanto che abitava da solo e cosa ha fatto? è andato all'ospedale di Pavia a farsi curare perché in quella città abitava sua sorella entrato all'ospedale quest'uomo entra in coma e i dottori gli fanno un elettroencefalogramma l'elettroencefalogramma risulta nullo cioè vuol dire che l'attività elettrica del suo cervello era completamente azzerata nulla i dottori avevano detto che quest'uomo doveva morire oppure se si risvegliava sarebbe rimasto in uno stato vegetativo per il resto della sua vita era finita non c'era più niente da fare sua sorella però conosceva una signora che frequentava le apparizioni mariane di Michelino Marcovecchio che si trovano al monte Santo Nofrio in Molise io vi ho letto qualche messaggio di queste apparizioni alla base di questo monte c'è una fonte d'acqua e la Madonna cosa ha detto ha detto di bere tutti i giorni sette gocce di quest'acqua recitando la coroncina del Divin Cuore di Gesù questa signora è riuscita a procurare quest'acqua è andata all'ospedale da suo fratello e gli ha messo sette gocce di quest'acqua alle labbra di suo fratello mentre era in coma lo ha fatto per un giorno lo ha fatto il giorno dopo lo ha fatto il giorno dopo ancora recitando questa preghiera richiesta dalla Madonna e cos'è successo quest'uomo si è risvegliato ed è guarito completamente i dottori stessi sono rimasti senza parole sbalorditi Carbonia 2021 il colle del buon pastore sarà meta per tutti coloro che vorranno approdarvi qui saranno graziati dal mio amore e saranno ribattezzati in spirito santo e fuoco acqua sorgiva sgorgerà presto nel colle e porterà beneficio tanti saranno le guarigioni e liberazioni che avverranno attraverso questa fonte voglio saziare il mio popolo di me voglio liberarlo dagli artigli di Satana ecco perché anticipo il mio intervento Olivetto Citra Apparizioni Salerno 2011 ogni parte del mondo sarà colpita da grandi sofferenze moltissime anime verranno qui a pregare perché anche qui Dio Padre Onipotente donerà attraverso la bella Signora l'acqua che guarirà molti ammalati credeteci perché tutto ciò non è lontano non è lontano non è lontano non è lontano la bella Grazie a tutti. Grazie a tutti.